Ciao, ti do il benvenuto al consueto appuntamento e aggiornamento ciclico con l'indicatore Volten per quanto riguarda l'indice tecnologico Nasdaq. La Naso si sta sviluppando in maniera corretta con il mercato che sta seguendo perfettamente l'andamento ciclico. Che cosa dovremo cercare per i prossimi giorni? Lo vedremo tra pochissimo dopo la sigla del canale. Mi raccomando, non andare via! Eccomi, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Se è la prima volta che stai guardando una mia analisi, mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella così rimarrai sempre aggiornato con le mie analisi giornaliere e anche i miei appuntamenti settimanali con Trading dal vivo. Mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com dove ho riversato tutti i miei 16 anni di esperienza di mercati perché da 16 anni che sono sui mercati ho creato due sezioni, una formativa e una di servizi. Quella di servizi riguarda il canale Telegram gratuito a cui naturalmente invito a iscriverti dove troverai tutti i giorni due analisi cicliche multiday gratuite, quelle che vado a registrare qua su YouTube e anche l'analisi ciclica intraday con i livelli volumetrici sul DAX, il Nasdaq, Dow Jones, S&P e il Gold almeno due volte alla settimana. Potrai trovare un servizio di segnali intraday sugli indici, anzi sei nel posto giusto se stai cercando un servizio intraday sugli indici che oltre a generare segnali genera anche un'analisi quotidiana su ciclica e volumetrica sul DAX, Nasdaq, S&P, Dow Jones e Gold correlata di video dove ti spiego come leggere le analisi quando non ci sono segnali. Indicatore Volte per poter lavorare con l'analisi ciclica è un algoritmo da me creato, quindi un algoritmo unico al mondo che permette di proiettare nel futuro il movimento del prezzo basandosi su tutto lo storico disponibile, questo in maniera totalmente automatica. Sostanzialmente sarò in grado di lavorare con l'analisi ciclica in pochissimi secondi analizzando qualsiasi strumento da circa 54 mesi fino a un'ora. Corso di analisi ciclica e volumetrica, questo è il must per quanto riguarda la formazione potrai avere accesso a oltre 55 ore di formazione soltanto di analisi ciclica 40 ore un'analisi ciclica mia, quindi che non trovi altrove al di fuori del mio sito e che tra l'altro è anche l'unica analisi che ha già a disposizione oltre migliaia c'è più di migliaia di video dove puoi toccare con mano l'efficacia del metodo tra l'altro c'è un'ottima promozione che scadrà quest'oggi alle 24, come il resto lo fate vedere anche ieri 39% di sconto, promozione estiva, dove avrai tutto il pacchetto a soli 999 euro anziché 1399 e avrai anche incluso tre mesi di segnali in tre day oltre a un anno intero di indicatore, il canale Telegram è riservato all'indicatore, eccetera quindi veramente da approfittare una promozione eccezionale di cui non potrai fare a meno andiamo a vedere i risultati per quanto riguarda i segnali, il mese di luglio sta andando molto bene siamo a 62 punti sul DAX, due operazioni e due profitti per quanto riguarda il DAX il trimestre abbiamo visto ieri chiuso con 1230 punti di profitto e il segnale di oggi naturalmente l'ho condiviso sul canale e lo possiamo andare a vedere qua questa mattina ho dato la possibilità di uno short con 61 punti di stop, devo andare a trovare eccolo qua, dopo aver naturalmente postato l'analisi alle 8.30, alle 11.30 quindi previsto con largo anticipo e ribasso del mercato, alle 11.30 ho dato l'allarme di un possibile shot poi è arrivato il segnale della mia operazione, lo spostamento dello stop loss a break even e poi dopo un'ora la chiusura dell'operazione con 32 punti, 32 punti tra l'altro chiusi esattamente sul livello volumetrico, quindi sul minimo, mercato che poi non è più riuscito a rompere quel livello quindi abbiamo preso tutto il movimento giornaliero, l'abbiamo preso noi sul canale ma torniamo alla nostra analisi allora in questo momento siamo ancora all'interno di una tendenza rialzista per quanto riguarda il ciclo da 40 giorni e come si può vedere qui dalle date abbiamo diversi cicli che hanno come previsione di chiusura tra il 18 di luglio e in grosso modo il 4 di luglio sono riuscito a tracciare questa bella tre line del ciclo a 40 giorni, aggiornata e sarà su di essa che andrò a cercare poi la mia operatività quindi al momento sul Nasdaq io rimarrei flat in realtà c'è ancora spazio per salire perché ce n'è ancora siamo però su un livello importante in tutta onestà non andrei io a cercare una rottura per un long parlo per quanto riguarda me stesso però ciclicamente c'è ancora tempo, sì quindi chi vuole prendere un rialzo lo può sicuramente valutare attenzione a tutta quest'area perché è un'area di resistenza molto importante e quindi non ci sono molti punti a disposizione parli di multi day, stiamo parlando, vabbè sono comunque 400 punti a disposizione magari lavorando entrando prima in intra day come un'analisi di diciamo più breve periodo si possono anche prendere dei rimbalzi degli swing per poter entrare al mercato personalmente attenderò che se venga a sviluppare se mai ci sarà l'opportunità di uno short con poi la rottura della trendline del ciclo a 40 giorni quindi ancora un po' di pazienza per quanto riguarda il Nasdaq per chi vuole lavorare esclusivamente con componente ciclica quindi basandosi sulla statistica per diciamo riassumere tendenza di fondo di breve rimane rialzista fino al 12 bar 18 di luglio personalmente ignorerò qualsiasi informazione rialzista e mi concentrerò successivamente sull'opportunità di poter andare a cercare delle operazioni ribassiste a partire più o meno dalla metà della settimana di luglio con questo direi che è tutto ti auguro una buona serata mi raccomando ti aspetto iscritto a uno o più dei miei servizi approfitta del mega sconto per quanto riguarda la campagna estiva e promozionale e metti un like per terra non costa nulla per me è importante per poter sostenere questo canale che gratuitamente tutti i giorni realmente mi porta via tantissimo tempo richiede tantissimo impegno e lo faccio totalmente gratuito con questo ancora è tutto buona serata e la prossima ciao ciao ciao